Ciao, allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 11 del livro Shea che valido fino al 13 settembre 2017. Vedrete che è un album con tante promozioni e novità per il rientro dalle ferie, dall'estate, per rimettersi in forma con trattamenti per la cuore del viso, dei capelli, del corpo, tutto davvero wow! E ci sono anche tante promozioni, idee a regalo e set. Quindi direi di iniziare subito a sfogliare questo album. Ciao, allora iniziamo subito con, vedete subito la copertina ok e il sommario. Sono davvero delle grandi novità. Intanto, prima promozione, e poi vi mostro la novità, la promozione è che shampoo più trattamento ha 7,95€. Come si sceglie? Allora, lo shampoo quello che preferite tra tutti quelli che o volete voi o quelli consigliati, utilizzando il solito codice nero, il trattamento invece, ad esempio, vi prendo questo che è una novità, il trattamento con il codice rosso. Vedete che shampoo e trattamento ha 7,95€, vedete i prezzi singoli, è davvero una buona promozione. Allora, vediamo le novità intanto. Prima novità è il siero, è della linea Riparation, è il siero fortificante che, eccolo, in promozione a 7,95€, 100ml, è perfetto da applicare sui capelli asciutti o umidi e distribuire sulle lunghezze, è perfetto per prevenire la rottura e per rinforzare i capelli. Questo davvero sono cose di provarlo anch'io. Altra novità, invece, è quello qui, l'altro trattamento, il trattamento notte, che si può prendere sempre col codice rosso, 150ml per 7,95€, è un trattamento concentrato da applicare tutta la notte per riparare i capelli e fortificarli ed renderli, soprattutto per i capelli secchi oppure dopo l'estate, per farli trovare rivitalità. Dice di usarlo sui capelli asciutti due o tre volte a settimana, prima di coricarsi, lasciare agire durante la notte senza sciacquare a risveglio. A risveglio basta spazzolare e si è a posto. Questi sono gli altri, ad esempio, questo è lo shampoo, se no c'è la maschera che fa parte dei trattamenti, sempre per la promozione, eccolo, crema senza risciacquo trattante, oppure l'olio al riparatore, sempre trattamenti. Altro shampoo è quello della linea nutrizione, la maschera che fa sempre parte dei trattamenti. Altro shampoo con la brillantezza. Andiamo con la novità che è lo spray brillantezza estrema. Dice di intensificare la brillantezza in un gesto semplice e rapido. Vediamo che è uno spray trattante bifasico, quindi va sciaccherato prima dell'utilizzo. 100 ml costano 7,95€. Andiamo avanti, vedete anche gli altri shampoo, sempre per la promozione, gli altri trattamenti. Eccolo qui, quello per i capelli lisci, quello per i capelli ricci. Tra i trattamenti per la promozione vanno bene anche l'olio al riparatore, oppure l'aceto da risacco, che sapete che io adoro. Tra i shampoo anche quelli per i riflessi colorati, ottimi. Quello per, ecco, crema delicata, shampoo lucentezza, shampoo antiforfora e tra i trattamenti anche l'olio al trattante antiforfora. Questi sono gli altri shampoo, sempre quindi luminosità, volume e si può avere anche lo shampoo 3 in 1 oppure lo shampoo purificante, che abbiamo già visto oltretutto. Vediamo ora le promozioni per la cura del viso. Il primo è un set e sfoglie purifica della linea Sebo Vegetale. Un set che comprende il gommaggio purificante più la maschera purificante a 12,95€. Sette invece della Hydra Vegetale, eccola qua, e sfoglia e idrata, perché a 12,95€ comprende il set gommaggio idratante, luminosità e freschezza, più la maschera idratante intensa. Linea Pure System, eccola. Il set comprende la maschera purificante più l'SOS anti-imperfezioni a 12,95€. Oltretutto l'SOS anti-imperfezioni è una novità. 10 ml per 7,95€ in promozione, 10 di lenire e rossori ed è causati da brufoli per un effetto calmante immediato. Andiamo avanti con un'altra novità. Questa è la Purcal 1000, che finalmente è tornata in commercio, con un nuovo flacone ecosostenibile e la nuova formula ultra delicata. Vediamo il gel detergente, che è perfetto per rimuovere trucco e impurità, a 200 ml, 4,95€, oppure 2 in 1 detergente tonico, sempre 200 ml, sempre 4,95€, perfetto per detergere e intanto tonificare la pelle in un solo gesto. Vediamo ora un'altra novità, perché è interessante come hanno creato l'olio micellare detergente. È una nuova gestualità, dicono, per struccare e detergere la pelle. Allora, intanto dice di eliminare il trucco, anche waterproof, in tutta delicatezza, senza seccare la pelle. Questo ci sta perché è un olio. 150 ml per 9,95€. Come si utilizza? Si applica qualche goccia sul viso, si massaggia delicatamente, si emulsiona con l'acqua tiepida, per ottenere una texture lattiginosa, e poi si rimuove con abbondante acqua. È un po' la stessa formula che hanno i nuovi struccanti, quelli in burro. Questo è in olio e credo che sia anche meglio per rimuovere davvero il trucco waterproof. Vediamo ora la promozione per quanto riguarda il make-up, perché ecco le quali stilocchi waterproof, due stilo 13,95€. Come sempre si scelgono i vari colori, tra tutti quei disponibili, il primo col codice nero e il secondo, come sempre, col codice rosso. Vediamo ora i trattamenti corpo e guardate la novità. Allora, dei latte, ad esempio questo, latte nutriente, che conosciamo la solita versione che oltretutto è gercensito e mi piace, questa. La solita 200ml, 6,95€, ok. Hanno fatto la versione formato XXL, oltretutto con il plattico dosatore, che trovo davvero una cosa interessante. Perché? Allora, intanto sono 390ml di prodotto, in promozione 9,95€ e conviene, oltretutto è anche comodo a questo punto da applicare. Stessa cosa, eccola qua, anche per la versione idratazione, quella con l'aloe vera, sempre 390ml, col plattico dosatore, 9,95€. Vediamo ora il set per la cura dei piedi. Set che comprende a 13,95€ il gommage per i piedi, la crema nutriente per i piedi, sempre la lavanda, e il top coat effetto gloss per le unghie. Concludiamo con il set della linea Le Pleasure Nature, in questo caso è quello con la profumazione Vaniglia Bourbon. Il set comprende l'olio doccia più il latte corpo, eccoli qui, a 9,95€. Abbiamo anche, ovviamente, le altre profumazioni, quindi la noce di cocco, sempre il latte corpo e l'olio doccia, oppure, eccoli qui, quello oliva e petit grain, sempre latte corpo e olio doccia, oppure mandola e frio d'arancio, eccolo qui, anche quello al mango e coriandolo, oppure lampone e menta piperita. Allora, finiamo con delle idee di regali, piccoli pensieri, anche carini per le varie profumazioni. Allora, abbiamo a 14,95€, nelle varie profumazioni che adesso vi mostro, questo set che comprende il bagno doccia da 400ml, il latte corpo da 200ml, le toilette, eccolo qui, e una salviette, salvietta ospite si può chiamare, con anche la pochette in cartone per contenere il tutto. 14,95€ ed è disponibile tutto il set nelle varie profumazioni, quindi, oliva e petit grain, oppure mandola e frio d'arancio. Si può scegliere il set con la profumazione che si preferisce, con il codice e quella qui tra quelli elencati qui sotto. Se no, abbiamo anche, eccoli qui, mango e coriandolo, lampone e menta piperita, noce di cocco, e per finire, vaniglia e bourbon. E questo era tutto il catalogo. Allora, avete visto tutto il catalogo? Avete visto quante promozioni ci sono? Vi ricordo, come sempre, che qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi, per l'informazione e per gli ordini. Come sempre c'è anche il link per scarificare in formato pdf il catalogo, così potete tranquillamente sfogliarlo sui vostri dispositivi elettronici. E non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con il magico naturale mondo di Verochet.